benvenuti in questo nuovo video oggi faremo una cosa fantastica saliremo sul tettuccio della macchina allora vediamo questa no quello la vediamo qua qua sopra la tra l'altro l'ho lasciato la rampa per la b ce l'ho lasciato qua vedete ok ora ora dobbiamo andare proprio a scala apriamo la chiusa va bene che aspetta arriviamo ok ed eccoci qua ecco l'ho qua una scuola elettrica ecco ok qua c'ho la scuola prendiamola ecco l'ho qua ecco l'ho la scuola ecco l'ho ecco l'ho e qua e la mettere qua e la mettere qua e la mettere qua dai che invece ora salgo io questa idea che vi faccio vedere allora vediamo se non c'è lì ok ora sono sulla scala ora devo andare da qua aspetta mantenga ecco qua sono qua sopra guardate ma non vi preoccupate che non si fa niente la macchina guardate qua sopra non si fa niente guarda è super resistente qua tra l'altro il tetto guardate da sopra è pulito cioè è più nuova quella macchina questa è del 2005 quindi si invece questa è del 2002 quindi guarda come si fa è più rovinato come auto vedete c'è un po' di vernice qua guardate vedete questo è il plus da tipo vrop non lo so comunque diciamo che è bello stare qua però non lo so vedete vedete cosa ne pensate se c'è una bella vista non lo so va bene va bene ora scendiamo vediamo cosa va scendiamo dai scendiamo mettiamo il piede di là comunque se deve andare verso il centro non è resistente qua invece si è resistente ok ecco qua ecco qua ecco qua ecco qua ok dopo metterla posta alla scala guarda di salito ci salgo spesso sulla macchina ok guardate ok che ne ho detto bella inquadrata e ora spero che questo video vi sia piaciuto non dimenticatevi di mettere like di servire al canale grazie del like grazie dell'iscrizione ma soprattutto grazie per aver guardato questo video e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao